L'emergenza abitativa si conferma uno dei problemi principali della Toscana. Il quinto rapporto sulla casa è stato presentato dall'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli nel Salone degli Innocenti a Firenze. Nel 2015 in Toscana una famiglia su 497 ha subito uno sfratto, mentre a livello nazionale il rapporto si abbassa a una ogni 793. Su 260.000 famiglie toscane che vivono in un affitto, 6.500 sono a rischio sfratto. Le province più colpite sono Prato, Livorno e Grosseto. Per migliorare la situazione l'assessore Ceccarelli ha presentato la riforma del sistema di gestione delle case popolari. Noi puntiamo ad avere entro la fine dell'anno il mutuo da 100 milioni che consente di dare prosecuzione e di dare avvio ad alcuni interventi programmati per la realizzazione di 1.300 alloggi nei prossimi tre anni. Oltre ai soldi in arrivo dalla Banca Europea degli Investimenti, la riforma prevede un testo unico e una razionalizzazione dei soggetti gestori, attualmente 11. Il mercato immobiliare privato è risultato in lieve ripresa, con un aumento del 10,8% delle compravendite e un più 6,5% per l'accensione di mutui. Per il nono anno consecutivo si è registrata una flessione dei permessi rilasciati per nuove costruzioni.